Una produzione di www.sulleali dell'infinito.it Sito di Garbin Luca Pagina web che si occupa di seguenti tematiche Spiritualità Medianità gratuita Canalizzazione Metafonia e contattistica Videotutorial Letture consigliate Convegni Relazioni e molto altro Per maggiori informazioni scrivere a Luca Garbin al seguente indirizzo mail informazioni at sulleali dell'infinito.it Telefono 331 283 4817 Pochi Grazie a tutti! 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 Aspettiamo qualche minuto prima di cominciare Ciao Gina! Ciao carissima! Mi fa in effetto parlare così da solo Però dai mi fa piacere che vi sentiate Dopo tolgo la musica Eh Ciao! Grazie a tutti! Grazie. 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 Due minuti e cominciamo, eh? Grazie. Grazie. Ok, possiamo anche cominciare, poi chi entra successivamente può rivedere il video dall'inizio. Allora, innanzitutto do il saluto a tutti, amici vecchi, amici nuovi, Gina, Marco, Marco non l'ho conosciuto solamente per telefono, Gina, che ringrazio per questa opportunità e anche Marco, vi ringrazio, che ho questa possibilità di parlare di ciò che io faccio, di quello che mi occupo. Chiedo scusa se a volte spazio in tematiche che magari non sono proprio preparato e quindi vi chiedo scusa per questo. Allora, vi do chiedo scusa anche per il mio accentone veneto che ho, io insegno in una scuola alberghiera, quindi ho la modalità insegnante sempre inserita e vi chiedo scusa se a volte sono un po' rozzo nelle risposte, nelle domande che vi farete. Come voglio articolare la serata? Allora, i primi 20-25 minuti li voglio articolare spiegandovi la mia esperienza di vita, come sono raggiunto la metafonia, che cos'è la metafonia e le varie tecniche per registrare. Mentre poi la parte finale vorrei lasciarla a voi affinché possiate farmi tutte le domande possibili, anche se mi possono sembrare stupide o banali. Rimango a disposizione di tutti sul posto, ho inserito il mio numero di telefono personale, mi potete chiamare tranquillamente, premio messaggino perché lavoro in una scuola, oppure c'è il sito che è cura che è www.garbiluca.it, potete consultarlo tranquillamente, lì trovate tutti i documenti che vi servono, tutorial video, anche il mio indirizzo mail, potete scrivermi tranquillamente, insomma ho dei tempi un po' lunghi di risposta, però una risposta semplice l'ho detto, ok? Allora, chi non mi conosce, sono Darmiluca, dall'accento si sente che sono veneto, vivo ad Adria, in provincia di Lovigo, un piccolo paesino che fa 25-27 mili abitanti. Come lavoro sono insegnante di scuola alberghiera, si vede, insegno cucina e pasticceria, quindi per quanto concerne la medianità, la spiritualità è una cosa a parte, ok? Quindi è un percorso mio che ho sempre fatto, ho sempre fatto poco, pasticcere, però la spiritualità è entrata nella mia vita verso l'anno 2009-2010. Diciamo che le cose poi non nascono per caso, eh? Questo è importante perché sulla mia pelle, sulla mia persona, ho avuto modo di testare questo, ok? Allora, la metafonia sappiamo presso a poco tutti cos'è, però ve la spiego di preciso. Consiste nella registrazione, attraverso l'utilizzo di un registratore o di un apparato, un computer, un telefonino, qualsiasi cosa, per registrare l'ambiente o la radio, per ottenere delle voci di un'altra dimensione. Io ho avuto sempre a che fare con la morte perché mio papà lavorava in una camera mortuaria, era preparatore delle salve, lui le preparava e mio fratello era radioamotore. Quindi è una coincidenza un po' strana, però la metafonia è entrata a far parte della mia vita nell'anno 2009. Ringraziando Dio non ho avuto lutti gravi. Per legge di vita ho perso i miei genitori, ma per legge di vita ho voluto anche fare delle ricerche. Ricerche che non ho voluto fare prima per il semplice fatto che ero terrorizzato, avevo paura. il semplice fatto di possessioni, demoni, cose di questo tipo, esorcismi, film che all'età mia, giovane, sapete, in tutta scuola vado a lavoro, si parlano sempre di queste tematiche, c'è anche l'ignoranza che fa parte di queste tematiche, ma la paura prende il sopravvento perché alla fin fine si apre una porta ma non si sa chi entra. Quindi la mia difficoltà è sempre stata questa e non ho mai effettuato nessun esperimento. Poi con la perdita dei genitori dicevo io ma perché no, alla fin fine se ad una porta busso con educazione penso che con altrettanta educazione mi si aprirà e così è stato, mi sono informato perché nel 2010 ho abitato 10 anni in Spagna, vivevo in Spagna e cercando internet vedevo un po' la metafonia cos'era, quindi cosa feci? Mi ricordo ancora che questo registratore che ho qui, vi faccio vedere, lo mettevo accanto al comodino di notte, quindi io ho sempre le due e mezza, tre, ho quel momento di sveglio, di sveglia, mettevo il registratore, facevo partire, mi giravo dall'altra parte, dormivo e lasciavo andare il nastro che scorresse. Dopo la mattina mi alzavo e riascoltavo il nastro per sentire se c'era qualcosa, a fine c'era solamente russare mio, la mia ex moglie e questo per una notte, due notti, tre notti, dopo una settimana circa, mi ricordo ancora, dalla registrazione si sentiva una voce butturale maschile che non è stato facile decifrarla e quindi cosa ho fatto? Ho cercato in internet e chi poteva essermi di aiuto e ho mandato un file ad un signore che lo ha decifrato, che allora era il carissimo Riccardo di Napoli, fatalità, Riccardo sappiamo che con il tempo era molto schivo nel eseguire certe richieste perché ne aveva tantissime, gli mandai il file alle due di pomeriggio, mezz'ora dopo mi rimandò la risposta e il file diceva Luca stai sempre ad abbagliare, a brontolare, non sono qui adesso, sono con tuo figlio, allora Riccardo non sapeva che aveva un figlio, quindi diciamo che la voce butturale faceva paura, il messaggio un po' generico, però la cosa strana è che il messaggio era in italiano e io abitavo in Spagna, quindi non poteva essere una frase presa da sistemi radio o infiltrazioni radiofoniche dai vicini che parlavano, quindi da lì è cominciata questo piccolo cammino, cosa ho fatto io? Poi ho cominciato a registrare tutte le serie che registravo e dall'apertura di quel contatto che era sempre però preceduto da una preghiera, c'era sempre questa piccola prevenzione che poi mi spiegherò meglio, tutto quello che vi dico questa sera fate conto che la mia esperienza personale, io non sono né un guru, né un maestro, né un matema, non sono niente, sono un semplice insegnante di scuola baghiera che ha fatto questa esperienza che questa sera condivide con voi, quindi non è detto che quello come registro io sia la regola, non esiste nessun libro o maestro che ti dica che quello è il metodo giusto per registrare, questo è importante, ci tengo a precisarlo perché poi possono nascere discussioni sui modi di registrare, poi vedremo insieme anche questo, ok? Sono preoccupatevi che stasera, devo bere spesso però vi chiedo scusa, sono veneto e grappa questa, dunque è importante che passiate una bella serata e che oltre a imparare vi divertiate anche un po', ok? Perché parlare di là di là per me è allegria, per me è amore, per me è pace, per me è serenità, è trovare il mio scopo di vita che è questo, ok? Oltre che insegnare. E allora insegno a fare metafonia. Quindi tornando a noi, quelle registrazioni che poi registravo tutte le sere erano ambientali, ok? Cosa significa ambientali? Che nessuna radio, nessun utilizzo di niente, perché sono quelle che tuttora ho ripreso a fare con le persone accanto. Cerco di lasciarle la radio da parte. E le registrazioni poi si susseguivano in noi non siamo morti, siete voi morti, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene, c'è amore di qua, di qua c'è luce. Tutte queste piccole frasi nell'arco di registrazione che duravano tre, quattro ore, c'era questo piccolo frammento. Quindi il lavoro era abbastanza pesante, ok? Questa è la mia esperienza, questo piccolo cammino che ho cominciato. E poi nel frattempo ho acquistato una radio da un deporte, sperimentato altre varie metodologie che poi insieme vedremo. Allora innanzitutto partiamo dalla metafonia. Giustamente se vi chiedono che cos'è la metafonia, ok? Allora c'è la metavisione, metafonia, metamedicina. È formata da una parola sul fisso greco meta al di là fonia del suono. Quindi al di là del suono. È un termine incognato pochissimi anni fa, credo, dalla signora Elvisi, credo, non sono sicuro di questo. A me piace di più la parola psicofonia, però non ha importanza, non ci dobbiamo soffermare sulla parola, ok? Mi sono fatto un piccolo spunto per tutte le cose che vi devo dire che sono un po' dante, ok? Allora, quando nasce la metafonia? Diciamo che la prima metafonia nasce nel 1959 attraverso un regista che si chiama Fred Gilgerson. Gilgerson era un regista svedese che durante, diciamo, un giorno che doveva registrare dei rumori particolari, una corna sonora di un film, in un bosco, riascoltando il tracciato audio, percepì la voce drammatica che ti parlava in danese. Ecco qua che abbiamo le prime voci particolari. Però non dobbiamo dimenticare padre Agostino Gemelli che durante la riparazione di un organo a corda, scusate, di un registrattore a corda, e sapete quando si chiama il tipico grondolare, ma porca miseria, papà aiutami, mamma aiutami, perché non riusciva a infilare questo nastro, durante il riascolto si sentiva la frase, ma certo che ti aiuto, testone. E questo è un uomo della chiesa, ok? Poi abbiamo Constantin Ravive, che era uno scienziato, un filosofo, rettone, che insieme a Gilgerson sono stati i primi pionieri della metafonia, diciamo, che hanno cominciato a sperimentare. Diciamo che la metafonia utilizza strumenti e apparati elettronici, ok? Questo è importante. E grandi scoperte si devono a Nikola Tesla, a Thomas Edison, padre Agostino Gemelli, come vi ho già detto, e soprattutto a Gugliano Marconi. E Gugliano Marconi, sappiamo, inventò la radio, ok? Nikola Tesla è stato uno scienziato molto sfortunato. Pensate che quando andò, perché fu, diciamo, seguace, andò a lavorare con Thomas Edison, Thomas Edison inventò la corrente continua, mentre Nikola Tesla inventò la corrente alternata. E invitò Nikola Tesla ad aiutare questo problema, promettendogli una grande cifra economica se risolveva il problema dell'elettricità per farla arrivare in tutte le case. Nikola Tesla lo fece creando la corrente alternata, che è quella che abbiamo tuttora oggi nelle nostre case, però Thomas Edison non lì di nessun soldo. Nikola Tesla voleva dare l'elettricità gratuita a tutto il mondo, però stranamente è stato trovato ucciso in un hotel e i progetti che aveva, stranamente, stranamente, diciamo, non sono scomparsi. Nikola Tesla ha inventato tantissime cose, questo è importante da sapere, ok? Esiste un film in internet che vi consiglio di guardare, che è la vita di Nikola Tesla, poche parole, perché serve anche a capire l'attrezzatura che usiamo oggi, ingranaggi con la che usiamo oggi, perché è molto importante quando si ha a che fare con la spiritualità, non essere ignoranti, perché nell'arco di questi tantissimi anni, che ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone, ho visto anche tanta ignoranza, perché spesso ci si adagia sul bigottismo, su tante cose. La spiritualità è un mondo bellissimo da scoprire, da studiare, da leggere e da condividere, questo è importante. Ok? Questo non voglio mancare di rispetto a nessuno, mi raccomando che non siamo mica permorosi questa sera, ok? Allora, i precursori ai giorni nostri abbiamo Padre Magni, ok? Che è famosissimo, che ha avuto qualcuno, c'è qualcuno anche sicuramente del gruppo che aveva avuto la fortuna di conoscerlo e lui realizzava il corpo di luce, il fotone diceva che l'anima prima di entrare nel corpo è composta da fotoni di luce e quando muore ritorna, avrebbe essere questo corpo di fotoni di luce. La fisica quantistica appare che stia dimostrando questo. Padre Agostino Gemelli era anche un precursore anche lui della metafonia, ok? La metafonia ai giorni nostri, chi c'è? Che opera nel settore. Se parlo troppo veloce ditemelo, aspetta che scorro i titoli perché sennò io parlo troppo veloce. Quindi un ringrazio a tutti, c'è anche un amico, poi vi saluto tutti dopo lei. Le domande Stefania Molinari le fai dopo tutte quante alla fine e le facciamo insieme, così poi vi rispondo a tutte le domande, ok? Sì, comunque. Allora, la metafonia ai giorni nostri. Io ho avuto la fortuna di conoscere Lida Russo, che era di Livorno, poveretta. Lei mi ha ospitato a casa sua, è una persona fantastica e non c'è più, poveretta. Lei per esempio aveva perso il figlio, se non sbaglio, in un incidente sul lavoro e metteva il registratore nel retro della sua boutique e lo lasciava andare durante tutta la giornata. E poi alla sera vi ascoltava ed effettivamente c'era la voce del figlio. Non ha avuto tanto esito, tanto successo come Marcello Baci. Marcello Baci, sappiamo che è ancora vivo, ha 92 anni, è allettato adesso, però è stato uno di quei pochi casi, uno di pochi al mondo. Anche se dal mio punto di vista sono convinto che ci sono persone che hanno lo stesso fenomeno, solo che per paura di essere presi in giro o derisi o non creduti non lo dicono, però sicuramente sono convinto che ci sono altre persone che hanno questo fenomeno. Apro una piccola parentesi su cosa ci dicono le entità. Io in Spagna, quando cominciai a registrare, registraimi una voce che diceva, tu conoscerai Baci. Io Baci non sapevo neanche chi era, né come fare, né come arrivarci. Beh, dopo due anni ci ho mangiato a tavola con Marcello tre volte. Quindi anche queste sono state le piccole prove che sono arrivate con il tempo. Ok? Poi abbiamo avuto Marcello Baci aveva un modo particolare di registrare, lui sintronizzava la radio su una portante. Che cos'è la portante? Allora, per farvi capire che cosa sia, è come se io in questo momento lascio il canale aperto, sparisco e me ne vado. Però rimane il segnale della trasmissione. Ecco, quella è la portante. Ci sono delle frequenze che vengono memorizzate, rimangono ferme. Ok? Quando l'emittente non trasmette più, però rimane il segnale. Lo stesso, quella è la portante. Marcello sintonizzava su una portante, dopo circa 10-15 minuti, questo dipende dalle varie giornate di contatto che avevano loro, appariva una specie di vento medianico e dopo questo vento medianico avveniva il contatto diretto con le voci. Lì premetto che tutti siamo medium, ok? Quindi per me Marcello aveva una medianità sua che si è manifestata con la radio. Poi, con l'esaurendosi, con l'età, con il tempo si è esaurita anche la medianità. Poi abbiamo anche Laura Paradiso. Laura Paradiso che è venuta a mancare l'anno scorso, credo, lei registrava facendo rumore praticamente con una cassetta, lei grattava, riascoltava. E quello era un fenomeno di chiara udienza. Molto bello, interessante anche lì. Ho avuto la fortuna di conoscerla e ho avuto delle prove anche lì. Ecco che con Laura forse non venivano dei messaggi diretti, però delle parole chiave. E quelle parole chiave adambano a rassicurare la persona che chiedeva il messaggio perché sapeva riconoscerlo, ok? Questo è particolare il metodo che aveva Laura Paradiso. Poi abbiamo Riccardo di Napoli che è un metodo che uso io tuttora e che è venuto a mancare anche lui. Sono venuto a mancare, spero di durare un po' di più io insomma. Comunque Riccardo anche lui registrava con la radio, era un sperimentatore grande, molto bravo e soprattutto molto umile. E abbiamo i congi desideri, però loro utilizzavano il metodo del nastro inverso, che poi vi spiego com'è, ok? Allora, che cosa utilizzano i nostri amici del cielo per comunicare, ok? Possono utilizzare il computer, il telefono, fax, radio e registratori. Quindi la tecnologia per loro è un grande aiuto, sia per loro che per noi. Però ti immaginare una volta una registrazione inversa, come facevano i congi desideri, ok? C'era la, vi faccio un esempio, no? Vi ricordate le cassette, no? Questa è piccola, una microcassetta. Le cassette più grandi, bisogna registrare, smontarle, invertire la bobina e rimetterle su. Adesso invece è semplicissimo con un programma che si chiama Audacity, che è totalmente gratuito, reverse, in pochi secondi, millesimi di secondi, c'è già il nastro rovesciato. E telefono, possono utilizzare il telefono, ci sono casi in cui la mamma riceve un squillo dal numero del cellulare del figlio che è inattivo da anni, ok? Radio, ok? Questo che è il metodo che ipotizziamo noi e i registratori. Allora, che cosa innanzitutto vi occorre per fare la metafonia? Allora, per fare la metafonia non vi vuole niente, non ci vuole niente, non costa, non costa molto, è tutto gratuito, ok? L'importante è che sia gratuito. L'importante farlo con intenzione d'amore. L'intenzione è molto importante. Scorro un attimo qua perché non voglio, ok. Dunque, allora, vi occorre una radio ad onde corte, innanzitutto. Allora, ce ne sono dei tantissimi metodi, ok? Se volete fare questo metodo. Questa qua, Silvercrest, l'ho presa all'Hidl, l'ho pagata 19 euro, se no dai cinesi ci sono. Se volete utilizzare le onde corte, potete andare su ebay. Ebay trovate delle radio antiche ad onde corte che costano un po' di più. Però diciamo che la differenza tra le onde corte e la radio transistor è che se noi misuriamo il campo elettromagnetico, con la radio onde corte il campo elettromagnetico è più elevato, mentre con la radio transistor no. Penso che le onde corte influiscano, cioè le onde corte, le valvole, influiscano e aiutino un po' di più i nostri amici del cielo a comunicare. Però, sinceramente, mi sa che certi problemi ce li facciamo noi. È nata la mania della radio onde corte perché Marcello ha usato la radio onde corte, la gelosa. Le comunicazioni arrivano lo stesso, non è che… perché siamo noi i catalizzatori. Quindi, se nella nostra testa siamo convinti che ci vuole una radio onde corte, vi ci vuole la radio onde corte. Però se nella nostra testa siamo convinti che noi siamo i catalizzatori del messaggio, allora sì, allora il messaggio avviene, ok? L'importante è la convinzione. Ci vuole un registratore, innanzitutto, che è molto importante. Se non ce l'avete, potete registrare con il telefono e poi passare il tracciato al computer. Anche questo potete fare, perché i registratori ce ne sono tantissimi. Questo, per esempio, in Olympus costano 35 e 70 euro. Questa è la spesa un po' più cara. L'importante deve avere questo piccolo spinotto USB per essere collegato al computer per poterlo scaricare. Non volete spendere soldi? Potete registrare il tracciato audio con il cellulare e poi ve lo inviate tramite posta elettronica, ve lo inviate al computer e potete ascoltarlo tranquillamente. E poi ci vuole un programma che si chiama Audacity. Audacity e lo trovate in internet tranquillamente, basta che scriviate su Google Download Audacity e lo trovate immediatamente. È gratuito, non costa niente. Quindi, se volete, potete anche mettere il registratore e potete mettere la radio, perché ci sono anche delle radio online. Volendo, potete anche distrarre dalla radio le computer. Allora, la tecnica che usava Riccardo Di Napoli, che usavo anch'io, consiste nel sintonizzare la radio su una frequenza estera, possibilmente non di base latina, ok? Latina qual è? Francese, portoghese, ormeno, ok? Spagnolo, ok? Queste quattro frequenze qui, a riascolto, possono dare delle parole molto simili, ok? Quindi, sintonizzare le frequenze su delle radio, possibilmente non latine, quindi greco, ungherese, cinese, russo, africano, quello che volete, insomma, ok? Quando registrare? Si registra al mattino o alla sera, perché sono le ore in cui le onde corte si propagano meglio. Le onde corte sono delle onde piccole, di 7-8 metri, che arrivano fino all'atmosfera, rimbalzano e tornano a terra, ok? Quindi, verso il mattino sono le ore migliori, perché c'è meno propagazione, meno inquinamento, c'è meno inquinamento, elettro smog, e soprattutto sono gli orari dei TG, dei telegiornali, quindi ci sono più speaker che parlano e meno musica. Registrate quei 20, 30, 40, 50, 60 secondi, un minuto, non di più, e dopodiché il giorno dopo lo riascoltate, rallentando a meno 18 il tempo, questa è una metodologia, che poi vedremo insieme e ve la ripeto ancora, quindi se adesso non riuscite a scrivere, perché sto parlando troppo veloce, non spaventatevi, che l'ultima mezz'ora la dedico a tutte le domande che avete, possiamo stare qua fino alle 2 di notte se volete, cioè, a me basta l'acqua, e sono qua apposta per voi stasera, ok? Dunque, vediamo che cosa ci occorre, ecco un po' più immagine per farvi vedere, ok? Vi faccio vedere, ok? Una piccola radio, se il programma Audacity è questo, il programma Audacity, ne esiste un altro che si chiama WavePad Sound Editor, però quello è a pagamento, quello non ve lo consiglio, però anche quello ha la possibilità di essere più che altro per rimuovere il rumore, attenzione però che rimuovendo eccessivamente il rumore posso togliere delle parole importanti, perché determinate parole possono essere nel disturbo radio praticamente, ok? Allora, una cosa importante che vi devo dire, non è che se io ho un apparato di buone prestazioni, ho risultato assicurato, non è che se spendo 10.000 euro di radio, antenne portanti, microfono migliore del mondo, ho risultato assicurato, assolutamente no. I medium siete voi, i catalizzatori siete voi, ognuno di noi, è medium sensitivo catalizzatore di quella energia. Quindi ricordatevi questo che non avete a spendere migliaia di radio, ma hai detto, ah, quel coglionazzo di Garbinoca, ma devo spendere 1.000 euro di una radio e non prendo niente, ok? È importante questo, perché il cielo è gratuito, non costa niente e basta pochissimo per registrare la metafonia, ok? C'è la mamma che mi sta mandando dei file che ha ottenuto con il telefonino e ha delle voci bellissime e incredibili, ok? Quindi questo vi dico che anche i telefonini adesso che companno il registratore incorporato hanno una qualità fantastica. Allora, un'altra domanda è, che vi dico, che vi propongo, che cosa ci raccontano le psicofonie? Allora, i nostri cari innanzitutto le cose che fanno particolarmente, ci parlano, ci chiamano per nome, questa è la cosa più bella, ok? Sentire per radio che ci chiamano per nome o per la registrazione ambientale è bellissimo. Poi ci raccontano il momento del trapasso, quindi possiamo sentire la parola luce, possiamo sentire tante cose, o chi li ha accolti, ok? Ciò che vedono al loro arrivo, ci raccontano la loro vita, quello che fanno, ci trasmettono i loro pensieri, i loro incoraggiamenti e i loro rimproveri. Per esempio, mia mamma, se io non registro quasi più ormai, però per mia mamma, per esempio, se vado da un'ambiente sensitiva o da una media, la riconosco perché arrivo subito a rimprovero. Lei ha quella frase categorica, rimprovero, insomma, di rompere le scatole, ci sono felici di parlarci, ok? E ci danno certezze che sono accanto a noi. Qui apre una piccola parentesi, sono felice di parlarci, benissimo, non disturbarli, quelli che dicono che non bisogna disturbare i morti, lasciamo perdere, allora, però bisogna dire una cosa, provate a immaginare che io o voi è a domenica mattina, siete a letto, state riposando tranquillamente, alle 7 sono nel campanello e viene la vicina che vuole un limone. Vi vestite e date il limone. Ritornate a letto, alle 8 sono nel campanello e viene l'altra vicina che vuole un chilo di zucchero. Ritornate a letto, alle 8 e mezza della mattina ritorna su una campanella un'altra volta e un'altra vicina che vuole delle arance, ok? Allora, non ho vicine, rompi i coglioni così, però quello che vi voglio dire è che bisogna essere anche moderati in questo. Quindi non registrare tutti i giorni ma darsi un ordine e un rispetto, ci deve essere sempre il rispetto con l'albidà. Io vedevo convegni dove una mamma usciva da una medium e andava da un'altra e andava da un'altra. Cioè, sta povera anima, non è che è dietro come un cagnolino. Quindi ci deve essere il rispetto anche in questo ci deve essere, che è molto importante. Quindi potete darvi appuntamento due volte a settimana e dedicare il vostro tempo a questa registrazione da fare, ma non deve essere una cosa fatta tutti i giorni, ok? Psicofonie, ce ne sono tantissime, allora, per ottenerle. Allora, un metodo, quello che faccio io adesso che da questi ultimi mesi sto sperimentando è quello scienzioso. Quindi accanto con la persona che deve ricevere il messaggio, la faccio parlare perché è molto importante l'audio. Allora, loro hanno bisogno di energia per manifestarsi nell'ambiente. Allora, come la medium scrivente usa la penna, muove la mano, è una forma di energia. Quella che parla, che ti canalizza il messaggio, è una forma di energia. Ricordiamoci che loro non hanno le corde vocali. Quindi devono utilizzare i suoni messi nell'ambiente per commutarli nel messaggio, nell'audio che a noi serve. Quindi cosa succede? Dobbiamo, prima di registrare, cercare di parlare con loro. Come se fossero qui. Tranquillamente parlare un dialogo. E oggi sto sperando che non ci sia il vicino fuori che ci guarda a parlare da soli, mi raccomando. Potete parlare anche in macchina, volendo registrare in macchina. Se vi vedono parlare da soli, ormai la gente pensa che ci sia di una voce. Ok? L'auricolare. L'importante è parlare, parlare, parlare. Perché i suoni che io immetto nell'ambiente, le onde sonore che io immetto nell'ambiente, sono molto importanti. Perché è energia che diamo a loro. Quando io registravo in Spagna, che registravo di notte, le psicofonie erano bisbigliate. Ma perché? Perché non c'era, c'era silenzio nella camera da letto, a parte mio russare. Quindi non era tanto forte la voce. Se invece parlo per dieci minuti con loro, chiacchiero, registro allo stesso tempo, lascio delle pause, io poi amplifico le pause e ascolto quello che c'è. Ma il rumore è importante per dare a loro la voce. Non avete voglia di parlare perché siete tristi, mettete la radio, mettete la tv, qualsiasi cosa. Ma ci deve essere rumore prima di registrare. Perché dovete caricare l'ambiente di onde sonore. Ok? Perché la musica, ricordatevi, non arriva solo nel timpano, arriva anche nella pelle e viene percepita. Perché tantissimi medi non vanno in trance con la musica. Perché la musica viene percepita non solo qui, ma anche nella pelle e nell'anima viene percepita. Ok? Quindi questo è molto importante. Poi abbiamo le psicofonie con l'acqua. Ok? Quella con l'acqua è semplicissima, basta mettersi sotto il rubinetto con due dita, far scorrere l'acqua piano piano con le goccioline come fosse un ruscello e registrare. Diciamo che le psicofonie fatte con l'acqua sono le più difficili da interpretare, sono più complicate. Però basta, è questione di allenamento. Ok? Anche la medianità è questione di allenamento. Qui c'è la nostra bella ghiandolina pineale che deve essere fatto come una palestra. Quindi è molto importante anche esercitare l'orecchio per capire le frasi. Attenzione che le psicofonie non sono sempre di cattiva qualità. Alcune sono, cioè, però purtroppo più sono perfette, più vengono messe in dubbio. Quindi questo è importante. Ok? Allora, voglio dedicare qualche attimo ai rischi della metafonia. Quali sono i rischi della metafonia? Guardate, i rischi della metafonia non ce ne sono tanti. Ce n'è uno particolare che è l'ossessione che viene fatta. Ok? Questa sicuramente la affronterete anche quando parlerete di spiritismo. L'ossessione è una cosa un po' particolare. L'ho fatta pure io. Le spiego come è successa. Arregistravo tutti i giorni. Arregistravo. Dimenticandomi di vivere la vita. Quindi tu fai una mania, ti metti sempre a registrare, 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 registrare e ti dimentichi. Nel caso chi ha perso qualcuno si dimentica che ha un altro figlio, che ha un marito, che ha una moglie, che ha un altro genitore. La vita purtroppo, purtroppo, la vita continua. Quindi questo spesso ci si dimentica. È importante perché ho avuto modo di parlare anche con la dottoressa Matteucci di questo piccolo confronto che abbiamo avuto. È stato anche quello di dire che c'è un periodo di latenza che il lutto va elaborato. Se io perdo qualcuno e immediatamente comincio a cercare il contatto, fugo da una situazione che psicologicamente è pesante. Per esempio, io conosco una signora toscana che ha perso la figlia, ha cominciato a registrare e con il marito ha ottenuto buoni risultati. Dopodiché ha perso anche il marito. Non ha elaborato il lutto della figlia, non ha elaborato il lutto del marito e è caduta in depressione. E questi sono i rischi da... Purtroppo c'è un processo fisico-neurologico che bisogna affrontarlo. Spesso cercare subito e immediatamente il contatto è una fuga da quello che è il distacco. Certo che il discorso è difficile, è complicato, è complesso. Io non sono preparato adeguatamente per affrontare il tema del dolore. Ecco lì ci sono persone preparate che sanno come elaborarlo. Però quello che vi voglio dire è che c'è un periodo di sei mesi dopo la morte, dopo il distacco ci sono sei mesi circa da preparare. Questo è importante perché ho conosciuto mamme che avevano due figli, si sono concentrate sulle figlie che hanno perso e sull'altra l'hanno dimenticata, creando delle situazioni familiari veramente pesanti. Questi sono i rischi della mente della metafonina, ok? Io stesso, per esempio, ho fatto esplodere la mia famiglia perché registravo, 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 registravo e la mia famiglia è scoppiata e è successo. Questo è quello che deve succedere, che nel 2012 è finito il mio matrimonio. Ma perché registravo, 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 ok? Questo è stato un errore mio. Poi si attirano anche delle energie che non sono adeguate perché sempre registrandoti, registrandoti, non ti soffermi sul contenuto del messaggio, che è molto importante perché spesso la maggior parte della gente che chiede un messaggio non si sofferma sul contenuto. Il celà è una lieve consolazione ma poi dopo 15-20 giorni, dopo un mese, è già chiedermi un altro. Io sono stato membro di alcuni gruppi di metafonia e vedevo queste cose che da una parte e dall'altra si chiedevano messaggi, 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 quando in realtà bisogna soffermarsi, studiare un attimo, capire il messaggio, farlo proprio perché quel messaggio lì ha tanto da darmi, ok? Vi ripeto che quello che vi sto dicendo è una mia esperienza personale assolutamente, quindi non deve essere mal interpretata o presa male, ok? Da qualcuno. È un consiglio che vi do mio personale, tutto qua, ok? Anch'io a me piacerebbe avere un dialogo continuo con l'aldilà, costantemente, però dobbiamo anche ricordarci che siamo lì qua. Allora, la metafonia ci dà anche delle prove di esistenza dello spirito. Sono molto importante cosa chiedere? Evitate di fare domande sulla salute, ok? Perché la salute interferisce sul libero arbitrio, ok? Quindi raramente rispondono su queste cose qua della salute. Ci sono dei casi che rispondono, però dipende dalla volontà del capo sopra che è lui che decide, ok? Questo è importante. La metafonia è una delle tante prove che ci danno. Ci sono anche delle fotografie spiritiche che sono bellissime, che sono importanti, che sono delle prove di esistenza. Attraverso l'ipnosi regressiva, anche questo è importante, è bella. Io ne ho fatte due, l'ipnosi regressiva, è abbastanza pesante da gestire, ok? Bisogna essere anche un po' di preparazione, perché sono un po' difficili da digerire determinate volte, alcune volte, ok? Poi attraverso le esperienze di trascomunicazione strumentale sono le prove, queste qua di esistenza dell'aldilà. Diciamo che la metafonia è un insieme di tante cose belle, ok? Allora, dunque, quello che vi voglio dire io è, allora, per registrare con l'acqua, vi ripeto, adesso vi spiego le varie tecniche di registrazione. Allora, per registrare con l'acqua basta aprire il rubinetto, far scorrere l'acqua, registrare un minuto, fate sempre un minuto, non di più. Dopodiché passate il tracciato al computer, con Audacity, rallentate il tempo a meno 19, meno 22 e basta. Meno lo toccate, meglio è. Poi, isolate le parti che sentite in italiano, insomma, che vi possono dire qualcosa, che può essere qualcosa. L'importante è che parliate. E poi, cosa vi devo dire? Non postate le metafonie in internet, su Facebook, sui vari gruppi, perché sono soggette di critica o di osservazione, però il fatto che gli altri non sentano la frase non significa che non ci sia la frase. Perché vi dico questo? Perché sempre sulla mia esperienza personale ho avuto la fortuna di conoscere Gigliola Morricone, che è il sito www.amorechillumina.com. Lei ha il suo figlio, Emanuele, ha 27 anni. Mi mandò in Spagna delle cassette, delle registrazioni da ascoltare. Lei registrò un file inverso, 40 minuti. Ci ho messo quasi due mesi a decifrarlo. Però nel file ero nominato anche io. Allora, abbiamo chiesto poi, attraverso un contatto medianico, come mai ero nominato io in quella registrazione fatta quattro anni prima. Da là di là hanno detto, perché le registrazioni vengono dettate al momento. Il momento in cui voi vi mettete all'ascolto, si apre il canale. Quindi ecco perché da una stessa traccia possiamo ottenere 4, 5, 6 messaggi diversi. Perché nel momento in cui ci mettiamo all'ascolto riceviamo cose diverse. Primo. Però io registrai un file e attraverso Skype, stesso computer, dal mio computer usciva ti voglio bene fratello. Dal file della mamma, dal Skype della mamma, lei prendeva play e si sentiva ti voglio bene mamma. Quindi le due persone, io l'ho sentito con le mie orecchie, avevano questo file diverso. Quindi se la signora mi diceva, ma io sento ti voglio bene mamma, io non sono nessuno per dirgli che non c'era. Quindi tante volte se pubblichiamo un file su Facebook, cosa succede? Che magari veniamo criticati e poi ci passa la voglia di registrare, perché cerchiamo sempre l'approvazione degli altri. Cercate di non convincere mai nessuno. Non dovete convincere nessuno. Non è il vostro lavoro convincere. Questo è importante. Ve lo dico perché ho visto tante persone che erano veramente brave, hanno smesso di registrare perché magari dicevano una critica e questo poi compromette il futuro di un futuro metafonista che può aiutare tantissime persone. Poi ci sono gruppi che magari criticano gli modi di registrare una cosa o l'altra. Io non ho il mio metodo. Non so se è quello giusto. Io so che così ottengo dei risultati. L'importante è il messaggio, il contenuto del messaggio. Non importa come lo ottengo. Come se io devo fare una torta. Se sbatto le uova prima o sbatto le uova dopo, non importa. L'importante è il risultato finale che ci deve essere. Spero di essere chiaro e che riusciate a comprendere. Se avete tutte le domande che vi vengono in mente scrivete su un foglietto che poi cerco di rispondervi a tutti. Un'altra registrazione che si può ottenere è quella con il rumore. Al seminario che faremo ad ottobre, il percorso di medianità che ha organizzato Gina e Marco a Vicenza, vi farò vedere le varie metodologie di registrazione. Ok? Quelli sperimenteremo insieme. Dunque, per rumore si può grattare la tastiera, si può della carta stropicciata, ok? E registrare quel pezzettino lì. E poi si riascolta. Vedete che alla fine l'acqua, rumore, dà energia. L'acqua, scusate l'acqua, lo scroscio dell'acqua, dà quella fontica che serve. Il rumore dà quell'energia che mi serve. La radio dà le onde sonore, lo speaker dà la voce che serve. Però io quelle che preferisco di più sono quelli ambientali, ok? Quindi, vi faccio un esempio. Allora, apro Audacity, con il tasto rosso, quello di registrazione, comincio a dire, ciao mamma, ci sei? Mi manchi? Sto zitto. Tutto posto? Va tutto bene di là? Cos'hai da dirmi di bello oggi? Sto zitto e lascio scorrere. E faccio una registrazione così. Poi, tutte le parti che sono il tracciato singolo, le amplifico in automatico, su effetti, amplifica, consenti clipping, ok. Automaticamente Audacity fa tutto. Unica cosa che devo fare è amplificare o rallentare il tempo a meno 19. Basta, non c'è altro da fare. Questa diciamo che è la forma più bella per ottenere il messaggio, però devono essere risposte semplici, brevi, ok? Non pretendiate che vi dicano tutto, sì, no, ciao. Queste sono le risposte che riuscirete ad ottenere con questo metodo, però diciamo che il più bello è più semplice ed è più facile, ok? Perché la radio spesso ci si confonde. Vi faccio un esempio. Parola, sorte, forte, morte, porte, ok? È un attimo confondersi, prima. Poi, un'altra cosa importante è l'umore. Se avete una brutta giornata, una giornata storta, o siete depressi, o giù di morale, non registrate, ok? Perché per leggi di affinità attirate anime affini al vostro stato d'animo. Quindi non è che fanno niente, poveretti loro, c'è, è come se noi in una stanza buia accendiamo una lucena e si girano tutti quanti, no? Cosa che faremo tutti, no? Provate a immaginare. Siamo 20 persone in un salone di conferenze, stacca la luce, c'è buio, non vediamo più niente, nessuno. Uno accende un telefonino e guardiamo tutti in quella direzione lì. Ecco, dal di là è la stessa cosa. Nel momento che noi accendiamo, apriamo la porta per il contatto, accendiamo una fiamma d'amore, loro si girano verso di noi. E se siamo giù di morale, tristi, depressi, arrabbiati, attiriamo queste anime che lasciano delle comunicazioni, che magari non vanno bene. Quindi, in quel momento è meglio non registrare, poi potete registrare e te lo riascoltate il giorno dopo. Io stesso quando stavo male sentivo delle registrazioni che non erano giuste, carine o costruttive, ok? Questa è la parola giusta. E lo riascoltavo il giorno dopo. Il giorno dopo era più diverso, insomma, perché stavo meglio. Il migliore momento di riascoltare è quando siete sereni, tranquilli, che nessuno viene con le scatole, con un paio di cuffie, ok? Questo è importante. E scrivere sempre quello che ottenete. Spesso le parole non hanno senso subito. Magari fra un mese, due mesi, possono avere un senso logico. Quindi quello che non capite oggi, fa due mesi, chi lo sa? Io, vi riparto sempre, conoscerò i baci. Chi è baci? E dopo, dopo due anni, io ho conosciuto, se non sbaglio. Sono due anni circa. Sono andato a tavola e ci ho parlato assieme. Quindi, con le parole lì aveva un senso logico. Durante una seduta spiritica che abbiamo fatto, una prova a Toscana, a Pisa, e mi ricordo ancora che esistrae l'audio e esistiamo la parola cioccolato. Tuttora, quella parola cioccolato non ha avuto senso logico, però cioccolato, magari abbiamo attirato un'anima, che evitava cioccolato, ok? Cosa importante nella metafonia, come tutte le comunicazioni medianiche, è la preghiera, diciamo, l'intenzione, ok? Allora, voi dovete partire dal presupposto che tutti siamo medium, tutti siamo sensitivi. Le persone che io ho conosciuto in tutti questi anni, diciamo che la medianità viene sbloccata da un lutto grave o da un dolore grave. Diciamo che questa botta di vita sfigata che ti prende, o di lezione, o di esperienza, io preferisco chiamarla di esperienza, diciamo che ti apre verso delle conoscenze diverse. Niente a caso, nell'universo non c'è niente a caso, è tutto calcolato per filo e per segno. Quindi, le disgrazie vengono per un motivo, non è che le attiriamo noi, o c'è gente che porta male, o così, insomma. Quindi, questo vi voglio dire. Tutti partire dal presupposto che siamo tutti medium e sensitivi. Quindi, è importante la preghiera. Preghiera, perché? Perché la preghiera eleva, cambia lo stato di vibrazione, ok? È come se, facendo sempre di farvi l'esempio perché ho l'impostazione scolastica, ok? Come provate a immaginare, la mattina vi svegliate alle 7, suona la radio sveglia e parte una canzone della Pausini, ok? Insomma, non è che ci si alza tanto allegro. Allora, si cambia frequenza, si mette una canzone latinoamericana, magari non si capiscono le parole, però la canzone è più allegra. Ecco, lo stesso siamo noi. La preghiera è una, ti cambia campo di vibrazione, ti eleva, ok? Come la meditazione stessa, eleva in un campo maggiore. Ci eleviamo e loro, per loro, è più facile raggiungerci, ok? Mi ricordo che durante una comunicazione medianica le anime dissero che per giungere fino a noi a comunicare devono passare per una coltra di negatività incredibile. Diciamo che la terra è avvolta da questa negatività e quindi la preghiera è molto importante perché ci riesce ad innalzare. Pregare come? Io vi invito a non recitare le poesie che abbiamo a memoria, ma vi invito a parlare con il cuore direttamente. Questa è la preghiera più bella. Io quando abitavo in Spagna ho fatto un corso di educazione e la medianità perché da fin fine la medianità e lo studi di Tirno sono l'educazione di questo piccolo dono che tutti abbiamo. Allora la professoressa mi disse una volta, ti faccio un esempio, ti butto giù da un burrone, tu cominci a dire Ave Maria Dobbins vuol dire oppure Dio mio aiutami, Dio mio aiutami. E quelle sono le preghiere più belle. Diciamo che io personalmente quando faccio contatti medianici o esperimentazioni con qualcuno la preghiera che consiglio è la preghiera semplice di Francesco D'Assisi che è molto bella e secondo me se ogni medium la recitasse sarebbe una cosa interessante da vedere poi i risultati. Ho visto circoli medianici dove a un certo punto hanno cominciato a pregare tutti il medium si è andato in cucina. Cioè io ho visto cose veramente di tutti i colori che ho visto in questi dieci anni. Questo è il mio invito principale. Concludo, ho ancora sei minuti, dopo vi lasciamo spazio alle domande. Quali sono i due messaggi? Io ho ricevuto tanti messaggi in dieci anni, ho conosciuto tantissima gente ma di tanti me ne sono scordato, di tanti messaggi. Diciamo che quelle più... due messaggi ho ricevuto una volta. Una volta si chiamava uno un seme e un tassello. Diceva che la nostra vita è un seme, un tassello. Quello mi è rimasto impresso perché in effetti è un puzzle senza un tassello non è un puzzle. Quindi quel tassello è molto importante. Dice che noi siamo un tassello di tutto. Però il messaggio più... più eclatante, più entusiasmante che mi ha colpito è stato questo che si chiama vostra prigionia sui rimpianti. E parlava quest'anima che diceva proprio questo, che noi siamo prigionieri dei nostri rimpianti. E se ci pensate è una cosa abbastanza... che fa riflettere, no? Perché dall'aldilà tante anime soffrono per il semplice fatto per i rimpianti che hanno, no? Quale può essere un rimpianto? Perché siamo in un mondo di gente stitica, veramente stitica. Si fa fatica a fare un complimento, si fa fatica a dare un abbraccio. I ti amo non si dicono più, ti voglio bene non si dicono più. E ce ne accorgiamo sempre tardi quando perdiamo le persone, quando perdiamo le opportunità, quando perdiamo le occasioni e viviamo in un continuo rimpianto. E loro ci dicono questa è la nostra prigionia. E dobbiamo evitare, no? Di essere prigionieri di questo. Io dalla metafonia ho avuto tanto da imparare, ho ritrovato la fede, l'aldilà mi ha dato tanto, tanto, tanto e ho ritrovato me stesso dopo questi due anni, specialmente di stand-by che ho preso un attimo, però sono stati importanti, ok? Perché bisogna soffermarsi sui messaggi, perché l'aldilà è la scelta che si fa di uno studio sulla spiritualità che può essere vastissima, perché ci sono tanti campi, possono dare tanto, arricchire le persone e cambiare le persone. Però l'importante è non avere rimpianti, ok? Perché dico questo? Perché questo messaggio che in dieci anni è quello che mi ha fatto veramente riflettere in una maniera incredibile e mi ha devastato dentro, ve lo dico perché i rimpianti sono all'ordine del giorno. Me ne accorgo anche a scuola con i ragazzini dove lavoro, con i colleghi di lavoro, non c'è mai quella pacca sulle spalle, non c'è mai quella parola grazie, si dà tutto quanto per scontato. Quindi è importante questo messaggio che io voglio darvi questa sera dalla metafonia, che possono dare tanto, il cielo è sempre con noi, è sempre presente, in ogni momento, non veniamo mai lasciati soli. Pensate che tantissime volte, sono un orso io, quindi mi incazzo spesso tante volte, una volta ho fatto messaggi per ragazzi, mamme che hanno perso i ragazzi, famosi ragazzi di luce, e una volta quando sta a uno sposo, ho dato un calcio al computer e ho detto, vaffanculo, non faccio più niente, non registro più niente, dove siete, tutti questi ragazzi che sono solo. Il giorno dopo mi arriva un messaggio dalla mamma su WhatsApp, che mi disse, ciao Luca, come stai? I nostri ragazzi di luce sono contenti, vogliono bene. Questa è la forma di medianità che si manifesta attraverso i segni, attraverso le coincidenze. La metafonia è una cosa che è a livello fisico, però se ci mettiamo all'ascolto di noi stessi, è una cosa molto bella da condividere con gli altri. Che cosa ci insegnano loro? Loro ci insegnano l'amore per noi stessi, perché in questo modo possiamo darlo anche agli altri. Ci insegnano il rispetto, ci insegnano l'umiltà, hanno tantissimi insegnamenti che però dobbiamo mettere in pratica e che non è facile, ok? Non è facile porgere la traguancia, perdonare, dimenticare, però purtroppo ci sono lavori che bisogna fare. Noi siamo gli specchi degli altri e quello che vediamo negli altri è quello che ci manca, quello che ci dà fastidio negli altri è quello che abbiamo noi, no? Sto leggendo un libro bellissimo che si chiama gli specchi e seni, ed è interessante da leggere perché fa capire tantissime cose e anche la metamedicina è una cosa bellissima che vi consiglio di leggere e di approfondire. Ci sono tantissimi testi da leggere con cui possiate approfondire. Non soffermatevi nei messaggi, nella registrazione, studiate, crescete, imparate, cercate in internet perché è bello imparare. Poi si acquisisce una consapevolezza che non è facile. Io la consapevolezza mia l'ho acquisita due anni fa, ormai la serata è finita ve lo dico, io ho un tumore al quarto stadio, quindi non so se il prossimo anno sono qui, però questa consapevolezza io la ringrazio questa malattia perché mi ha fatto cambiare la prospettiva di vita e quindi la metafonia mi ha aiutato. Sapete che quando ero da solo ho registrato, magari nel momento più, perché mi avevano dato due mesi di vita e quando l'ho registrato dicevo ma possibile che non c'è nessuno, mamma ci sei? E' una frase che dice ma ti vedo figlio. Ci sono, non siamo mai soli e quando si acquisisce la consapevolezza che siamo esseri eterni, che la vita è un soffio alla fin fine, questo è un piccolo passaggio, una piccola esperienza che nel libro dell'eternità è uno schiocco di vita e se noi ragioniamo con questo ci preoccupiamo a costruire il nostro futuro lasciando il bene, sorridendo le persone, io me ne accorgo con i miei ragazzi di scuola che li voglio bene come se fossero figli miei, un abbraccio o un incoraggiamento o dire ti amo anche se la persona magari non lo corrisponde, però questo è importante, i rimpianti, però non bisogna essere negativi, bisogna essere ottimisti perché loro ci sono sempre, certo ci sono i momenti di abbattimento e se una mamma come Giussi, la mia carissima Giussi e Giuseppe hanno perso tutti i due figli, che parole posso dare io? non ho parole, però posso dare una preghiera nel mio piccolo cuore e mandare tanto amore e tanta energia e un sorriso ci deve sempre essere, questo è l'importante e questo è quello che dovete cercare di capire dalla metafonia e da tutto quello che viene dalla ricomunicazione dell'al di là, un messaggio che vi viene dato è un dono bellissimo e tanti non hanno neanche la minima idea di quello che riceva, quindi soffermatevi su quelle righe, rileggete i messaggi che avete ricevuto una, due, tre, quattro, cinque volte fino a quando imparate la memoria e non andate come le falene che sbattono da un medium all'altro, perché poi da là di là tagliano i puntati alla fin fine, quindi quello che vi dà un medium, un sensitivo, un metafonista è una parte di qualcosa di meraviglioso che è difficile tante volte da comprendere, ci sono domande a cui non ho risposta, nemmeno io, perché il dolore che ha un genitore che prende un figlio è sicuramente una cosa pazzesca, però da questi genitori che ho avuto modo di conoscere tutti questi anni, io ho imparato tanto, io ho un'amica carissima che lavora in un ospedale di Perugia, Cinzia, non so neanche sei in ascolto, beh insomma lei lavora nel reparto più brutto del mondo, in pediatria oncologica e a volte quando sento i miei colleghi che si lamentano delle tasse, delle bollette dei due coglioni, mi viene da dirgli state là dentro il reparto un'oretta, uscite e poi vedete che non vi lamentate più, ma la di là c'è sempre, la di là è speranza, la di là non vi lascia, la di là non vi abbandona, la di là è la cosa più bella, e se imparate a fare metafonia, cosa che a me piacerebbe, imparate a donarvi agli altri, aiutare le persone, aiutare il prossimo, ieri ero in ospedale perché dovevo fare delle visite, ero vestito da cuoco, una signora mi fa mi scusi, avevo potuto prendere la buona serie a rotelle, portarli per un soccorso, erano come di che fossi un medico, un infermiere, vedete guardi questo un poco, quindi però quella sensazione di fare del bene ti compensa, e lo stesso quando fate i messaggi e voi ci avete là di là, fate nel tesoro di queste emozioni, di queste sensazioni, perché io sono rompi i coglioni e vi dedico queste cose, non andate in 70.000 sensibili medi, basta uno, è quello che vi dà, fate nel tesoro e soprattutto domani mattina quando vi svegliate, dopo questa serata che avete fatto con me, magari pensate, andate dal vicino e non parlate, o chiamate un parente con cui non ci parlate più perché ci avete ritirato, perché è il funerale, quello non hanno messo i fiori, o non hanno dato, cioè ogni parente, ogni famiglia ha la sua buona, cercate di fare pace e perdonare le persone, fatevi vedere superiori, fatevi vedere spirituali, questo è l'importante. E con questo concludo e adesso vi lascio libero alle vostre domande. Vado giù, scorro. Spero che abbiate capito, non volevo fare, ah c'è la cinzia. Allora, hai trasmesso tanto amore a Dinamo? Io innanzitutto ringrazio anche Gina e Marco, spero che siate rimasti soddisfatti, insomma io sono un po' chiacchierone, è che a me spesso, sapete ragazzi, mi dà fastidio vedere determinate cose e sono uscito un po' da tutti i gruppi per questo motivo qua, perché vedevo cose che non mi piacevano. La spiritualità è una cosa bellissima che merita essere studiata e vi dico la verità che in dieci anni ho conosciuto persone magnifiche, persone distrutte da lutti, da malattie incredibili. Pensate che due anni fa sono stato in un'associazione e lei aveva un cancro al seno e lei mi ha detto, mi ha insegnato una cosa stranissima, poi il caso non esiste, ha detto io ho trasformato la mia malattia da maledizione in benedizione, cosa che ho fatto anch'io. Quindi oggi sono qua, se no verrò per radio a trovarvi, questo è importante, che impariate queste cose qua insomma. Poi, psicofonia, psicofonia di differenza tra le metà, è solo, allora, Stefania Molinari, tanto lì ti rispondo, ok? Allora, la psicofonia è metafonia, è la stessa parola, cambia solo il gergo. Metafonia è stata coniata nel 1970, credo, da Gabriele Alvisi. Psicofonia, come di più, a livello del parapsicologia, ok? Sono solo terminologie di parole diverse, ma il concetto è lo stesso, ok? EVP, invece, Electronic Voice Phenomenon, è quello che viene utilizzato in Inghilterra, principalmente. Poi, vediamo altre domande, se qualcuno ci vuole, altre domande sono qua, eh? Scrivete, se avete bisogno, qualsiasi cosa. Se avete bisogno, vi ripeto, il mio telefono ce l'avete, 371-355-3464. Mi potete chiamare, mandate un messaggio WhatsApp, poi mandate una mail con il file audio, vi ve l'ascolto, senza fretta, perdona, perché ho i tempi molto lenti e devo combaciare la malattia, la scuola e questo, ok? Quindi fate presente questo, ok? Basta, nessuno, se avete altre domande, siete 50 che mi state ascoltando, vi ringrazio. Spero di non avervi annoiato soprattutto e ci rivedremo al convegno che ci sarà all'ottobre, a Tirenia, e lì farò solo disposizione anche per fare delle registrazioni. Le registrazioni io non le faccio più singolarmente da casa, preferisco farle con le persone accanto perché ottengo dei risultati diversi. Adesso, ma intanto la diretta è finita, vi spiego, vi faccio un esempio strano che mi è successo. Normalmente sulla salute non si fanno mai domande, perché è semplice, per il libero arbitrio, ok? Soproniamo che una persona comincerà a dire, c'ho questa malattia, morirò? E da là di là uno ti dice sì. Allora, questo che riceve questo messaggio va in depressione, si suicida, si butta avuto alla finestra uno, ok? Un mese fa ad un convegno ad Ancona c'è una signora che la conosco, ha perso il figlio 20 anni fa, è stato, non si sa in che circostanze l'abbia perso. Insomma, c'è un dialogo particolare con la mamma e abbiamo registrato, ha sentito di fare queste domande su un'operazione che doveva fare al seno al giorno dopo, perché aveva trovato dei granuli. E la seconda operazione, la prima era negativa, quindi la seconda era più che anche di polizia. Ha voluto insistere, 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 effettivamente la risposta è arrivata e si è ascoltato la parola canto. E lì poi mi ho detto io, ascolta, prendi le pinze, perché magari non ho capito male, può essere ambientale sempre la registrazione, che è senza utilizzando la radio. E poi la signora è andata da una media insensitiva, la media insensitiva gli ha detto non c'è niente, non ti preoccupare, sarà tutto a posto e non c'è canto, non c'è niente. Oh, ieri sera mi ha chiamato, mi ha scritto guardami, ho fatto l'istologico, effettivamente è canto. Quindi il fatto, non è il fatto della prova che sia arrivata, il fatto è che il legame tra madre e figlio continua anche oltre la vita, perché questo figlio ha risposto alla mamma per tranquillizzarla, perché infine è così, è negativo, è benigno il canto. Però è stata una risposta per tranquillizzarlo. Quindi ci sono casi in cui anche questi rispondono, ok? Tre settimane fa sono stato a Biella, che abbiamo anche trasmesso anche la diretta del tuo convegno, però sono andato anche in occasione perché ero un cugino che si è tolto la vita 4-5 mesi fa. Abbiamo fatto delle prove di registrazione con mia zia. Effettivamente l'entità ha comunicato poche parole, perché i suicidi, per esempio, ho notato che parlano telegraficamente, quindi le parole sono difficili a percepire. Però effettivamente qualche domanda, secca risposta, sì e no è arrivata. Quindi sul fatto che i suicidi non possono comunicare, non posso pronunciarli, perché effettivamente ho comunicato con qualche suicida. E poi non lo so, perché dalla di là, vi ripeto, io non ho, non sono, non ho nessuna certezza, non si ha mai la certezza di chi comunica dalla di là. Ecco perché un'altra cosa importante sono le prove di veridicità, ok? E se magari vi arrivano delle parole chiave importanti, queste fatele in tesoro. Scrivetele sempre su un testo. Ricordatevi però che la metafonia è una porta d'inizio, è la prima elementare diciamo, basilare, per entrare in contatto con la di là. Poi con il tempo mettete da parte la metafonia e vedete che le voci le sentite inferiormente. È solo questione di ascolto di se stessi. Questo è molto importante da comprendere, ok? Dopo, va male, ci si allena, la mediana unità entra in funzione da sola. Dopo, arriva il sesto senso che si sviluppa particolarmente. Ricordatevi sempre che l'importante è l'intenzione. Ah, grazie Dugia! Ok, scusate, guardo adesso i messaggi, ok? Delle volte si può sentire anche l'orecchio nudo. Sì, certamente si può sentire l'orecchio nudo, eh, l'orecchio nudo, scusate, l'orecchio nudo. Si può sentire tranquillamente, passa che alzete il microfono, tranquillamente. Cioè non è obbligatorio vedere le cuffie, è gli auricolari. È che più che altro serve per isolarsi un po' meglio e percepire le parole, ma se la registrazione è chiara, non vedo perché non farlo. Insomma, tranquillamente si può sentire l'orecchio nudo. Quelle che io faccio con il computer, le faccio senza cuffie, senza niente. Quindi questo è importante. Cioè, poi dipende, sta a voi. Allora, adesso io vi ho detto dei metodi che ci sono per registrare, ma ognuno ha il suo metodo. C'è chi si può trovare bene con l'acqua, c'è chi si può trovare bene con i rumori, c'è chi si può trovare bene con la radio, con quelli ambientali. Ognuno di voi ha un proprio metodo. Potete, dovete sperimentarli tutti e con quello che vi trovate meglio è il vostro. Non c'è nessuna regola. Quindi ci sono tantissimi metodi. No, per fare una torta a margherita ci sono tanti metodi per farla, però il risultato finale è lo stesso. Cioè io mi trovo bene a montare le uova prima, io dopo, io aggiungo il burro e poi per ultimo le uova. E non ha importanza. L'importante è che il risultato finale sia lo stesso. Ok? Poi, nelle registrazioni, Barbara, ora si non si possa fare domande? Sì, certo. Certo, puoi fare domande. Allora, puoi fare domande, ti ripeto, evitate di fare domande sul futuro e sulla salute perché non hanno loro accesso tanto al futuro. Se fate domande sul futuro e vi svelano domande sul futuro e vi rispondono, prendetele sempre non seriamente. Ok? Scartate ed evitate. Ok? Questo è importante. Difficilmente rispondono sul futuro. Fate domande risposte secca, dico, ciao mamma sei tu? Sì. Stai bene? Sì. Cosa vedi di là? Ok? Fate domande così e allora si riescono tranquillamente, insomma. Poi, potresti ripetere la registrazione ambientale? Sì, certo. Allora, ti faccio un esempio. Non c'ho quel computer, se no ti faccio vedere. C'è il computer ma non posso guardare il monitor. Allora, dunque, puoi, allora, prendi, apri il computer, oppure il microfonino, ok? Questo qua. Registri. Per esempio, devi parlare con tuo papà. Devi dire, ciao papà, ci sei? Silenzio. Come stai? Che cosa fai di bello? Silenzio. In cinquo e dieci secondi. E ci vedi? Silenzio. Ti sono piaciuti i fiori? Ok. E silenzio. Poi, selezionate la parte del tracciato. Sapete che l'elettro, è sempre apposito l'elettrocardiogramma d'aciti. Selezionate la parte dove c'è il silenzio, che è piatta. L'amplificate, ok? Quindi selezionate quella parte lì. Effetti. Amplifica. Consenti clipping. Praticamente che è l'amplificazione. E basta. E ok. Automaticamente ve lo dà. Tutto lì. l'ambientale. Facilissima da fare, che è quella che vi consiglio a tutti. L'importante è che, magari se avete il mercato fuori casa, ci deve essere, insomma, attenzione alle frasi, ok? Anche attenzione alle radio. Se vedi state con la radio, attenzione perché prendere Radio Maria è un attimo, eh? Cioè, non si prende per tutto, no? Peccato non si sente sempre. Allora, si può provare con il cellulare? Sì, certo. Si può provare con il cellulare, tranquillamente. Cioè, guarda, guarda, questo qua, per esempio il cellulare è mio. Vai su impostazioni. Questo qua è un guardare, per esempio. E qua. Vedete qua c'è il programma registratore. Ecco il cassivo qua. Registrate con questo, tranquillamente. O sennò esiste un programma che si chiama with editor. Ecco, un'altra cosa che vi devo dire su eccovox, quel programma lì non lo so perché sono frasi, è una scansione continua delle stazioni radio. Non ci credo molto sull'ecovox, però è il mio parere, ok? Quindi può darsi che qualcuno con un'ecovox abbia dei risultati fantastici. Io non li ho ottenuti, ma probabilmente forse perché quello non è il mio metodo. Però l'ecovox non lo so perché c'è uno scanner praticamente di continue frequenze. Siamo unità. E, su, ab, et, a, te, bene, morte, è, morte. Funziona così praticamente. E' normale prendere qualche parola strana. Ci sei zio? C'è lo zio, c'è lo zio, ho sentito sì. No, non è, quello non è metafonia. E' una cosa nuova, non lo so. Però ti ripeto, su quello non mi pronuncio, insomma. E poi vediamo. Monica, è vero, sì, anche quello. Ci andano un partecipe. Gina è grande. Gina, passate che io l'ho conosciuta nel 2010. Gina l'ho conosciuta. Eravamo a Pisa. Perché io ho cominciato a Pisa nel 2010. Perché abitavo in Spagna io ho preso l'aereo e per me era un convegno. E questo, insomma. Ah, no, Luca, non sono stazioni di radio, ma fonemi. Giusto, è vero? Sì. Sono un po' strani, diciamo. Esatto. Fonemi sono strani, però lì va un po' sulla fortuna o non lo so. Però vi ripeto, io quel metodo lì non ho mai utilizzato l'ecovox. L'ecovox costa sui 70 euro comunque. Una radio che la trovate a Bologna, la vendevano su internet. l'altro lato comunque potete anche provare. Vi ripeto, io ho sentito delle registrazioni con l'ecovox, non lo so, strane. Diciamo che su quelle che ho visto in internet tante sono un po' dubbiose. Però vi ripeto, io non sono nessuno per dire, non c'è quella frase. Perché magari quel messaggio per quella mamma era quello. Ok? Avete altre domande, ragazzoli? Come si chiama il primo che hai detto per il cellulare? E beh, allora, dunque Eleonora, ascoltami, dentro il cellulare che hai, tra le applicazioni dovrebbe esserci il registratore. Se no l'applicazione si chiama, te lo dico subito, due secondi, sai che sono vecchi. Wave editor si chiama. Si chiama Wave editor e questa, quello qua. Si vede rovesciato, però Wave editor si chiama. Ve lo faccio vedere. Questo qua. Questo è quello per il cellulare, l'applicazione. Wave editor. Poi, buonanotte a tutti. 2013 ho conosciuto Gina, sono cominciate le disgrazie. Ah, bravo Giacomo, grazie. Sono audiolibri inglesi? Eh sì. Ah, bravo, ho anche audiolibri. Ho dimenticato di dirmi una cosa che mi fa ricordare una cosa, Giacomo. Dunque, la registrazione inversa come va? Perché non ve l'ho spiegato, maledetto che sono. Per esempio, prendete un libro, un testo, registrate, parlando piano, ok? Scandendo bene le parole. E dopo di chi lo rovesciate. Questo è il metodo utilizzato dai coniugi desideri principalmente, ok? Poi lì, diciamo che, una cosa che vi voglio dire personale sempre, è che là di là non sono handicappati. Cioè, soggetto, predicato verbale, complemento. C'è una frase costruita, ci deve essere. Non è che è tu, la, re, si, qua, derea. Cioè, nel senso, ci deve essere una frase costruita con soggetto, predicato verbale, complemento. Perché nel momento in cui io comincio a dare alla persona che ho davanti la mia interpretazione, diventa una cosa soggettiva. non è più metafonile, ok? I coniugi desideri hanno un forte dono di interpretazione, sicuramente di sessitività maggiore. Ma anche nelle altre metafoni che io vedo è la surrequatula. Cioè, nel senso, bisogna essere anche un po' realisti e dire, un'entità non diventa anticapata. Io posso comprendere che non ha l'apparato fonetico per poter parlare, ma non diventano dislessici, per l'amore di Dio. Cioè, nel senso, soggetto, predicato verbale, complemento. Se io devo dare un messaggio a una mamma, cioè, deve capirlo sta mamma il messaggio. Non è che devo dargli un'interpretazione. Perché altrimenti diventa soggettivo. È dopo la mia esperienza, insomma. Questo è molto importante. Quindi, se nelle frasi non capite, andate avanti. Cioè, non si affermate. Ricordatevi che l'entità, l'entità è avuta parola, che i nostri amici non sono, non hanno problemi linguistici. Ok? Quindi, andiamo avanti, cerchiamo di costruire una frase comprensibile per la persona che avete davanti. Perché se no, non ha senso. Questo vi voglio spiegare. È sempre il mio punto di vista. Ricordatevi, ok? Perché non vorrei mancare di rispetto a nessuno. E sono un semplice cuoco e pasticcere. Quindi, anzi, sono un semplice insegnante. Cucina. E sono solamente i miei punti di vista, basati sull'esperienza che ho vissuto in questi dieci anni. Perché ho visto che io, ottenendo i messaggi, c'era il soggetto, predicato verbale. Pensate che io analizzavo il tracciato, arrivavo alla fine, ripartivo dall'inizio con quello che rimaneva e si formava la frase. Ok? Quindi, anche questo, devo dire, è importante. Cioè, nel senso, le parole devono avere un senso logico nella frase. Quindi questo si può evitare con la registrazione ambientale che è più realistica, meno discutibile che rispetto con la radio. Ok? Ben bene anche la radio. Ho fatto cinque, sei anni con la radio ed è stata molto utile perché i messaggi ottenuti sono stati molto belli e significativi. Però, anche poi, possono essere discutibili sempre perché le parole spesso non sono chiare, sono forzate tante volte. Ok? Questo è questo che vi voglio dire. Vabbè, signori, io concludo. Devo rimanere Marco. Grazie, sai Giacomo. Allora, io vi saluto, vi ringrazio innanzitutto per avermi ascoltato, per avermi dedicato il vostro tempo, soprattutto. Spero che vi venga voglia di registrare. Questo è l'importante perché tutti i convegni che ho fatto nessuno ne registrava mai. dovete provare, lasciarvi andare, mettere da parte dei timori, paure, demonio, satana, non c'è. Quindi state tranquilli. pregate sempre. Questo è importante perché vi aiuta a crescere. Il destino non cambia, però vi aiuta a crescere. di qualsiasi cosa che abbiate a disposizione, siamo qua. Potete contattare Gina, potete contattare Marco, potete invitare il sito www.verbiluca.it dove lì ci sono dei tutorial, li trovate anche su YouTube. Se avete bisogno, il mio telefono è scritto nel messaggio. Spero di esservi stato di aiuto nella vostra comprensione e nel vostro proseguire. E buonanotte. Grazie Gina, grazie Marco e grazie a tutti. Grazie Giacomo e grazie a tutti gli amici che non ho potuto salutare perché sono tutti nella fila. Grazie di cuore. Devo rimanere con voi. Grazie a tutti. 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 infatti ho tutto e spero grazie a tutti